musica 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 grazie musica 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 e bella a tutti ragazzi siamo in compagnia con cross buonasera a tutti ragazzi non sembra giusto perchè abbiamo fatto pure lì una challenge abbiamo fatto un video pazzesco oggi faremo i calci di vigori musica musica niente ragazzi vabbè mi ho dato il vantaggio ora tanto ragazzi segno prendo l'angolino in alto a destra tutto roccio tutto roccio ok bello io ho rotto la porta ragazzi uno a uno bello mi sono rotto la scarpa ma bello ragazzi l'abbiamo operato ok no che stile siamo uno fai ragazzi il king il king è pure qua no no adesso ragazzi tocca a me tirare il terzo rigore e questo si segna ragazzi non è il mio che è morto chi è morto chi è morto chi è morto Grazie. No. No. Che parata c'è. No. Le ha perso tutte e due. Ma fortunatamente ragazzi sono i King su Salve il Mondo. Le ha perso tutte e due. 3 su Salve il Mondo. E' scandaloso. Non è vero ragazzi tanto lo stiamo registrando col mio telefono questo video e ora lo cancello. Ragazzi siccome ho vinto tutte le sfide io daremo un'altra possibilità al caro Cristian. Faremo uno più uno e il fratello di Cristian farà il portiere che è un portiere nato, vissuto, cresciuto e morirà da portiere. E' una persona fortissima. Fortissima. Il mitico. Il mitico. Il mitico. Ragazzi adesso ci sarà la sfida a Porta Romana. Togliamo tutta la scena. Uno più uno ragazzi. Si arriva a due. No. Non è una. Vabbè dai gioco. 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 L'ho fatto a postere. Era involontario il tocco. Lolline di Ginaúatro in un parco da ora. Ma rimane muovendo giù. Giù come far'Sta faccia. Si è serratto sulla palla mi fa극ione emails. Si è serratto sulla malla оновaires e diré, добавляются meno. Tranqui qui che sto muovendo č già. Tranquillo venava subire. è forte la armata non hai scelto la corda mandati passere ragazzi il video va a finire qua mi raccomando non è stato molto un piacere ho vinto tutto io ragazzi adesso limiterà più la scommessa del suo canale che ho vinto io più la scommessa di ora vai a lavorare andate a lavorare pezzenti andate per lavorare voi siete solo pezzenti pezzenti a